salve ragazzi bentornati sul nostro canale allora siamo di nuovo qui con the division e sono venuto qui perché volevo fare una missione del dipartimento medico ok guarda che ha mangiato il microscopio non è chissà che oh no non uccide la donna non uccide la donna maledetto infame perché la ti brucia viva io non vorrei che ci siamo cadati in una missione abbastanza difficile ok fanno abbastanza male ok vieni qua dai forse oh porca troia no ma io dico perché non muori come tutti quell'altri guardate ok certo non è per nulla semplice però ci proviamo magari se facciamo minima attenzione che sono tutte queste cazzo eh sì vorrei poter parlare con uno di questi purificatori un giorno per capire perché lo fanno e tranquillando lentamente mentre ve lo dici beh sì dai 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 ok ok ora ok riparo ok riparo ce l'ha dato qualcosa ma lo guardiamo dopo no cazzo no questo me lo aspettavo non va bene per niente cazzo 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 merda mi ha preso merda mi ha preso uguale me sta uccidendo mi sta uccidendo cazzo 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 eh non me lo aspettavo uno durato così su un bocca che è da cazzo 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 che non lo sa vieni fuori il mio di puttana che non sai altro mannaccia i muretti scavalca cazzo ma scavalca ma guarda che deficiente ma dai sono assai stupido però ma le prese cucciano non scavalca i muretti eh grazie a tio allora proviamo eh avevo chiuso tutti qua vediamo qua che cosa c'è nulla perfetto andiamo a andare leggermente avanti ma cazzo ha fatto salvato per poco ok vediamo se arriva ok è arrivato quello dorato? credo di sì ok 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 via 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 allora vediamo come è la situazione oh cazzo è fottutamente pericoloso via 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 vediamo fino a quando bisogna ritirarsi fino a che muoia vieni fuori cazzo dai non faccio guardate oh e dai vedi che piano piano che cazzo finalmente ce l'abbiamo vata ok 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 ne abbiamo uccisi un po' fortunatamente ci hanno lasciato un kit medico delle munizioni vai ok proseguiamo mamma mia sarà qualcosa di potenzialmente distruttivo esploriamo un po' perché no non c'è nulla va bene andiamo qua perché ce ne sono altri ok ok fanculo allora troviamo un pet prendiamo delle munizioni prima questo che comunque c'è non è che stiamo chissà quanti in forma ok vai aspetta c'è c'è della roba da raccogliere con la speranza che sia qualcosa di buono io neanche la raccoglio io voglio questa roba qua e quindi nulla basta bastardi questi vogliono uccide l'agenda siamo noi sono io siete libri ok 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 poi checkpoint allora io sono dell'idea che possiamo anche salutarci qua visto che ci ha fatto fare il checkpoint bene ragazzi allora come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e di seguirci anche ma cazzo ma allora sei stupido però ma guardate che lavoro ma non mi ha fatto niente come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e di seguirci sui vari social bene ragazzi un saluto dagli risastri ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti